Quella parte divertente finisce qui. Adesso comincia invece quella del lavoro, della responsabilità. Chiaramente se siete qui c'è una ragione, la quale voi siete qui, siete all'altezza di questo compito, che si è ritenuto che lo foste. Immagino che sappiate che da questo momento voi non rappresentate voi stessi, non rappresentate neanche un partito, rappresentate una nazione. E questo ha un enorme valore e un enorme richiamo alla responsabilità. Questa avventura sarà lunga, difficile, lunga speriamo, difficile sicuro, speriamo anche entusiasmante. Lo può essere e lo sarà quando riusciremo a dare risposte ai problemi che i cittadini si aspettano da noi, a essere fedeli al compito che ci è stato affidato, a essere esattamente quello che abbiamo raccontato che saremmo stati e la ragione per la quale oggi siamo qui. Per cui grazie per il lavoro che farete, grazie per come riuscirete a farlo considerandovi sempre una squadra, come stiamo facendo già a livello di consiglio di ministri e ringrazio anche Matteo e Antonio che hanno voluto essere qui stamattina i nostri due vice premier, però ricordate che ci sono milioni, decine di milioni di persone la cui vita, il cui futuro, il cui benessere, la cui serenità dipendono quasi esclusivamente o per buona parte da quello che riusciamo a fare noi. In bocca al lupo a tutti e buon lavoro.